In campagna elettorale per le europee ma anche per le comunali a Bacoli per dare una mano al candidato del centrodestra Nello Savoia. L'obiettivo di questa campagna elettorale doppia è quello di mettere in campo un progetto politico che è quello che abbiamo lanciato per l'elezione europea insieme a Giorgia Meloni con la lista di fare l'Italia ma anche di creare l'occasione per una buona sinergia non solamente elettorale ma l'impegno di Nello Savoia a livello amministrativo io mi auguro che possa trovare poi una collaborazione a livello europeo. Noi siamo in una regione alla campagna dove le risorse europee vengono spese poco e male ed è un paradosso e quindi penso che sia necessario su questo tema aprire un confronto ma anche dare la possibilità ad amministratori capaci di poter cogliere direttamente le opportunità che vengono dal livello europeo e quindi non c'è solamente una collaborazione politica con le amministrative ma c'è anche l'idea di poter mantenere fede agli impegni che si assumono anche dal punto di vista della risoluzione dei problemi cogliendo le opportunità europee. Il centro-destra quando si presenta unità ha delle chance quindi a Bacoli visto che è unito dovrebbe essere una buona cosa. Siamo molto fiduciosi rispetto a questo risultato e siamo convinti che ci siano tutte le condizioni per poter vincere questa campagna elettorale. Il mio obiettivo è quello non solo di lavorare gomito a gomito da qui al 26 di maggio ma dal giorno dopo lavorare e continuare a lavorare per poter dare risposte concrete e serie. Quindi sono convinto che il centro-destra con la candidatura di Nello possa raggiungere questo importante risultato. Una campagna elettorale che vede la presenza e la partecipazione attiva dell'onorevole Fitton per la tua campagna elettorale? Sì, questa è la dimostrazione palese di quello che diciamo da tempo. Ho messo in campo una collezione di centro-destra e importante e fondamentale saranno proprio i riferimenti sovracomunali. Lo dico da sempre, posso essere anche il sindaco migliore del mondo ma se non abbiamo i rapporti sovracomunali soprattutto con la presenza dell'onorevole Fitton e di Raffaele potremmo avere un continuo per quanto riguarda quello che saranno poi i finanziamenti europei. Bacoli mai più dovrà succedere che la città di Bacoli possa perdere quelli che sono poi i finanziamenti europei. Ce l'hanno insegnato in passato, oggi attraverso la presenza di Raffaele Fitton qui a Bacoli è un segnale forte, importante e determinante per dare una risposta concreta a questa città.